Siamo con Francesco Cappello, deputato regionale del Movimento 5 Stelle. Adesso il Movimento si prepara alla prossima battaglia elettorale, che è quella di maggio delle comunali. Non più amministrativi, ma proprio comunali, dato che oramai le province non ci sono più. Come sta ricercando i propri candidati del Movimento 5 Stelle nei comuni siciliani che si preparano a votare? Diciamo che molto probabilmente rispetto all'aprile o al maggio dell'anno scorso, in cui solo tre comuni parteciparono alle competizioni amministrative, cioè Caltagirone, Sciacca e Palermo. Oggi il Movimento 5 Stelle, che è una realtà, tra virgolette, un po' più audace, perché nasce nel territorio e per il territorio. Nasce per fare rete, portando e occupandosi innanzitutto dei problemi che ciascuno vive nella propria città. Però partiamo da un presupposto. nessun mi tappa ha l'obbligo di comporre la lista e partecipare alle competizioni elettorali. Ora vedremo. Per esempio, sono stato, ora che ci penso, ad Acate, dove già abbiamo una lista, praticamente un candidato portavoce, a Comiso, dove abbiamo una lista e un candidato portavoce. Ieri ho letto che a Ragusa hanno formalizzato praticamente il candidato portavoce. Tra l'altro sono tutte realtà, diciamo che in generale in Sicilia, non dico in tutti, ma in quasi tutti i comuni, siamo la prima forza politica, stando alle risultanze delle elezioni politiche. Vedremo, vedremo, perché non siamo obbligati. Se invita lo riterrà opportuno e ce la farà, presenterà una lista e concorrerà. Altrimenti, ovviamente il presupposto è che si sia attivisti, che si sia certificati, che si faccia attività nel Movimento 5 Stelle, perché non vogliamo diventare, e non lo saremo, l'occasione per qualche trombato di poter cavalcare l'onda del Movimento 5 Stelle. Fermo restando che le elezioni amministrative sono molto più difficili rispetto a tutte le altre competizioni. A proposito dei requisiti, abbiamo detto che sono stati formalizzati già alcuni candidati, anche se alcuni forse aspettano ancora la formalizzazione appunto sul blog di Beppe Grillo. Sì, la certificazione l'aspettano ancora tutti, l'hanno già richiesta praticamente, però i meetup già hanno cominciato a lavorare proprio in funzione dell'amministrativa e formalizzando nei confronti della città il candidato portavoce e i candidati della lista. Quindi parliamo di Siracusa, Ragusa, Piazza Armerina, ma anche Catania. Per quanto riguarda invece Messina c'è un nodo ancora aperto, nel senso che il meetup si era espresso a favore di un candidato già, che appartiene a un altro movimento, quello dei No Ponte, che è reato a Corinti, che è stato definito da Alberto La Spada, un componente del vostro staff all'Ars, come un grillino, o meglio, un cittadino a 5 Stelle già da 50 anni. Però a quanto pare Grillo non sarebbe della stessa idea, e non sarebbe favorevole quindi a concedere la sua certificazione per a Corinti, chiedendo invece al meetup di Messina di produrre un proprio candidato. Noi non siamo una setta, partiamo da questo presupposto, però secondo me in questo momento bisogna essere severi, nel senso che preferisco che la lista sia formata o non formata, ma prevalentemente da attivisti. Questo non vuol dire escludere altre persone che potenzialmente potrebbero dare un contributo grandissimo al movimento, però noi non dobbiamo vincere la competizione a tutti i costi, non ci interessa avere necessariamente il sindaco o dei consigli comunali. Poi sicuramente in assemblea regionale anche su questo tema i meetup si esprimeranno e determineranno, come abbiamo sempre fatto insieme, una linea di pensiero unica e eventualmente stabilendo anche dei criteri come abbiamo fatto alle scorse regionali. Secondo lei esiste una necessità di un coordinamento regionale per il Movimento 5 Stelle in futuro? Già siamo una rete in Sicilia, non so come funzioni nelle altre regioni, però qui siamo partiti condividendo tutti i meetup presenti, per esempio al momento dell'agosto del 2012, se partecipare alle elezioni, come parteciparvi e come candidare le persone. Quindi qua di fatto già esiste sostanzialmente una rete che poi è già collaudata da questo punto di vista.